Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale SonoVince, siamo qui a parlare di un aggiornamento importantissimo rilasciato da Lightroom perché a livello di maschere, di intelligenza artificiale ed altre cose veramente si è superato. Voglio farvi vedere quindi subito tutte le novità del programma, quasi questo aggiornamento potrà farmi addirittura abbandonare quasi del tutto Photoshop per alcune cose quindi sono veramente molto contento di questo aggiornamento e sono sicuro che per chi di voi utilizza determinate cose in Photoshop questa cosa gli renderà la vita veramente molto molto semplice. Prima di proseguire se vi va un like, un commento e ovviamente iscrivetevi al mio canale, io ne sarò veramente molto felice attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video che andrò a pubblicare e soprattutto i prossimi tutorial. Però, bando alle ciance, andiamo subito a computer e vediamo il nuovo aggiornamento. Eccoci qua, siamo in Lightroom e andiamo quindi subito a vedere quello che è proprio la prima innovazione di questo aggiornamento quindi abbiamo detto che si parla del cerotto, infatti vedete si va qui nella posizione in alto a destra chiaramente ci sono tutte le varie palette delle impostazioni una volta appunto qui si aprivano le varie maschere, vedete infatti mi ritorna anche il tutorial andiamo però a vedere per adesso questo che è il cerotto che ci serve appunto per andare a rimuovere degli oggetti magari indesiderati in questa foto facciamo finta che appunto in questa foto di questo fiore vogliamo andare a togliere proprio questo palo della luce almeno sembrerebbe essere, cosa andiamo a fare? Abbiamo spinto il cerotto abbiamo la modalità cancella, modalità cerotto e modalità timbro clone in questo momento andiamo proprio a vedere l'innovazione che è questa, quella del cerotto da qui possiamo andare a scegliere, vedete, quanto grande o quanto piccolo avere la dimensione del nostro timbro o comunque del raggio d'azione, chiaramente con la sfumatura andiamo a decidere quanta sfumatura deve avere il nostro pennello diciamo ad esempio un 45 e andiamo anche quindi a scegliere l'opacità che in questo caso però lasciamo al 100% perché dobbiamo andare a cancellare un po' tutto provo a ingrandirlo un pelo, giusto per vedere come funziona in questo modo e andiamo anche un po' a aumentare la sfumatura quello che cominciamo a fare è proprio andare a pennellare, vedete, con il tasto sinistro del mouse spinto proprio in questa zona, proviamo ad allargare un pochino qui, lasciamo e vedete che appena lasciamo il tasto ci ha praticamente cancellato l'oggetto indesiderato per togliere ovviamente questo non facciamo altro che ricliccare qui, scusate, nella palette dei colori e vedete che praticamente il tutto con un click veramente molto semplice è stato rimosso veramente molto molto interessante e ovviamente cosa succede possiamo anche andare comunque a riguardarlo un attimino perché se noi riselezioniamo la maschera, vedete che appunto in questo caso questa è la zona che noi abbiamo scelto vi dice che copia quello che è riportata in quest'altra zona infatti per assurdo se noi andassimo a prendere questo e portarlo ad esempio sul fiore vedete, giusto per farvi capire come funziona, lui vi andrà appunto a copiare il fiore quindi in maniera intelligente questo programma vi creerà la maschera più idonea per la vostra situazione se non vi soddisfa eventualmente proprio questa selezione possiamo cliccare il tasto aggiorna, lui andrà in automatico a scegliere degli altri punti vedete in maniera molto semplice lo fa praticamente da solo quindi veramente voto direi 10 a questa applicazione ovviamente in questo caso che è molto semplice andiamo a vederlo magari qui in un contesto un po' più complicato e sono un po' sicuro che in effetti qualcosa potrebbe andare storto diciamo che per qualsiasi nostro motivo questa macchia che vediamo qui in questo punto non ci soddisfa, la vogliamo cambiare quindi di nuovo cerotto magari in questo caso possiamo andare appunto anche a rimpicciolire un pelino il pennello ma non troppo, vediamo un po' come funziona e andiamo quindi a spennellare questa parte sono curioso di vedere cosa succede, io adesso lascio vedete ad esempio in questo caso che è andato a campionare una zona che sicuramente non è idonea quindi possiamo provare con aggiorna ecco qua in questo caso ce ne va a campionare un'altra forse un po' più idonea in questo caso andiamo anche a giocare un po' con la sfumatura forse era un pelino troppo grande e andiamo a vedere come è venuta vedete in questo caso ha funzionato un po' male questo per dirvi che sì possiamo usare questo strumento però dobbiamo andare anche a capire per ora quanto può essere utile in determinate circostanze io in questo caso andrei ancora ad usare sicuramente il timbro clone insomma il programma di photoshop per fare una cosa un po' più di fino andiamo quindi a prendere quest'altra fotografia perché ora vi faccio vedere un altro strumento sempre di questo importante aggiornamento in questo caso dobbiamo andare a attivare la parte appunto relativa alle maschere vedete in questo caso appaiono alcune cose come l'oggetto, un cielo, lo sfondo ma quello che ci interessa in questo caso da andare a vedere è proprio questo dell'oggetto quindi andiamo qui e clicchiamo oggetti e in questo caso possiamo agire in due maniere diverse la prima ad esempio è quella di andare a pennellare sul nostro oggetto quindi andiamo a scegliere vedete con il pennello ovviamente il nostro oggetto e quando lo andiamo a rilasciare aspettiamo appunto ecco vedete che ha creato una maschera perfetta proprio sul nostro oggetto vi faccio vedere infatti se andiamo a togliere il valore mossa e sovrapposizione scusate questa è la maschera che ci ha creato e quindi cosa possiamo andare a fare? possiamo andare a schierire, diminuire oppure appunto andare ad aumentare e diminuire la luminosità insomma fare tutte quelle regolazioni del caso che ci interessa fare su questo oggetto e questo vi ho detto appunto che era il primo metodo per poter fare questa cosa noi andiamo invece a vedere di creare una nuova maschera sempre oggetti in questo caso come vi ho fatto vedere c'è il primo metodo che è quello di andare a pennellare possiamo andare a scegliere tramite questo riquadro vedete un altro metodo che è quello di provare a prendere tramite una selezione rettangolare il nostro oggetto proviamo a vedere come funziona ad esempio su questa rosa che ho anche preso male vediamo però come va e guardate ha preso addirittura tutta la nostra l'ho chiamata rosa ovviamente sbagliando ma questo fiore che ci ha appunto fatto la sua selezione e qui ovviamente potete andare a fare tutte le modifiche che volete a livello di maschera non è questo il tutorial per farvi capire cosa è la maschera ma proprio per farvi vedere come funziona questo nuovo aggiornamento ecco qua quindi in questo caso io voglio andare a selezionarmi facciamo di nuovo oggetti e con una selezione rettangolare vado a prendermi magari proprio le due airpods vediamo in questo caso come le seleziona perfetto direi che le ha prese in maniera perfetta infatti andiamo a vedere possiamo fare le regolazioni del caso e quindi andare proprio a scegliere quello che ci interessa riproviamo di nuovo seleziona la maschera oggetto in questo caso lo andiamo a spennellare e io voglio prendere appunto tutte queste belle chiamiamole graffette mollette insomma come volete lasciamo un attimo e voilà le ha prese tutte in questo caso però attenzione ed era questo che volevo portare appunto alla vostra attenzione perché per fare un lavoro più preciso possibile dobbiamo anche capire un po' come è il nostro oggetto vedete che qui infatti ha preso anche una parte di tavolo quindi andiamo a vedere meglio qual è la cosa migliore da usare magari in questo caso potevamo prendere il pennello e spennellare perché no proprio su una singola graffetta alla volta ok questo è uno strumento molto molto carino molto utile veloce per fare appunto delle selezioni veloce andiamo per dire a selezionarci il nostro coltellino da questa parte e vedete lo ha preso alla perfezione e quindi lo andiamo a cambiare appunto nella sua tinta e possiamo appunto giocarci un po' nella temperatura e quant'altro attenzione quando andate a fare i controlli di fare i controlli nella schermata superiore non in quella inferiore perché se agiamo direttamente nelle varie schermate inferiori andiamo appunto ad agire su tutta la fotografia e non più sulla maschera selezionata questa è una cosa importante che dovete tenere a mente perché questa è proprio la regolazione della palette delle maschere eccoci qua siamo con la nostra bellissima Giada la modella che ha posato per alcuni scatti proprio con me e un'altra maschera che si è aggiunta è quella della selezione appunto dello sfondo prima cosa dovevamo andare a fare insomma prima dovevamo andare a appunto a fare la selezione della maschera sulla persona poi invertirla per avere appunto il nostro sfondo tutto attivo un passaggio in più questo quindi non è un grosso miracolo però se andiamo a vedere quindi la nuova maschera che è stata aggiunta che si chiama sfondo l'andiamo appunto a prendere e voilà in un attimo veramente in pochissimo tempo ci ha creato la maschera proprio nello sfondo infatti in questo caso possiamo andare ad aumentare vedete in questo caso esagero per farvi capire o diminuire chiaramente l'esposizione per poter quindi andare ad agire proprio solo ed esclusivamente sullo sfondo in questo caso come era prima possiamo tranquillamente fare inverti se invece dobbiamo agire sulla modella perché magari è un po' sottoesposta e quindi ci serve un po' di luminosità in più e quindi selezionare proprio quello che ci interessa in maniera molto molto precisa vi faccio vedere un'altra cosa veramente molto molto interessante cambiamo andiamo dalla nostra bellissima Giulia magari prendiamo tanto le foto sono praticamente identiche in questo caso ve la voglio far vedere ma diciamo così intanto in linea generale aumento un po' l'esposizione perché lo scatto era venuto in effetti un po' scuro vi faccio vedere cosa succede con questa nuova maschera che si è aggiunta infatti se noi andiamo qui sulla maschera vedete cosa succede qui sotto c'è la persona ha riconosciuto quindi la persona che abbiamo nella fotografia cosa possiamo andare a fare quindi in questo caso è quello di cliccare sulla faccia della persona e decidere se creare una maschera per la persona intera oppure solo per l'incarnato del viso oppure per l'incarnato del corpo vedete infatti crea appunto delle maschere per le varie parti del corpo per le sopracciglia, per la sclera dell'occhio oppure per l'iride e la pupilla per le labbra vedete quanto è veramente preciso per le labbra, per i denti oppure per i capelli quindi diciamo che vogliamo andare a creare una maschera per i capelli crea maschera ok ci siamo quindi cosa possiamo andare a fare proviamo a cambiargli la tinta dei capelli in questo caso gliele mettiamo in questo colore qui glielo cambiamo un po' vediamo quale ci può piacere questo ad esempio andiamo a schierire o a diminuire un po' le ombre gli diamo un po' di texture nei capelli andiamo quindi anche un po' a dargli di chiarezza vedete che chiaramente la maschera ha preso sì tutti i capelli però ovviamente bisogna stare un pelino attenti poi al risultato si può sempre e comunque aggiungere una maschera quindi crea nuova maschera pennello e andare un po' poi a spennellare appunto nelle zone che magari non hanno preso e quindi rifare un po' la modifica se noi però vogliamo andare a creare un'altra maschera quindi sempre su questo personaggio andiamo di nuovo quindi su seleziona persone ritorniamo sulla persona selezionata e in questo caso diciamo che vogliamo andare a schierire appunto la parte della sclera dell'occhio e qui di nuovo crea maschera e ci siamo possiamo andare un po' ad aumentare l'esposizione in modo che la sclera dell'occhio diventa un po' più bianca in questo caso sto molto esagerando perché voglio farvi vedere come funziona vi raccomando non fate delle cose di questo genere che sono veramente orrende la stessa cosa appunto se vogliamo andare a schierire i denti di nuovo andiamo a fare lo strumento seleziona persone andiamo sulla sua faccia andiamo appunto su denti crea maschera e in questo caso cominciamo appunto a aumentare l'esposizione ovviamente sto esagerando la povera Giulia è stata maltrattata in questa foto spero che non le dispiaccia ma glielo farò vedere e lei sicuramente conoscendola ci scherzerà anzi se volete seguirla andate sul profilo instagram Giulia Pepe che vi lascio qui sotto magari in descrizione perché fa veramente morire da ridere ciao Giulia un abbraccio però non è finita qui perché cosa succede se in caso come questo abbiamo più persone beh state vedendo che qui il programma sta elaborando e voilà abbiamo tutte le persone oppure la persona 1 la persona 2 la persona 3 la persona 4 la persona 5 e la persona 6 in questo caso possiamo andare proprio a prendere magari lei quindi questa persona e anche qui magari andiamo a intervenire sui capelli a me piace intervenire sui capelli andare a cambiare colore crea maschera vediamo un po' cosa possiamo fare glieli facciamo belli biondi glieli andiamo anche a saturare un bel po' e li andiamo anche un po' a diminuire anzi ad aumentare l'esposizione perché no così almeno le abbiamo ridato un po' di colore ai capelli diverso e abbiamo fatto la tinta veramente in un attimo insomma avete visto quanto è semplice utilizzare queste maschere questa nuova intelligenza artificiale che ci mette a disposizione quindi Lightroom fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate vi aspetto anche sui miei instagram e gruppi facebook che trovate qui sotto in descrizione e direi che noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi grazie 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 grazie